Adesso collegamento con la redazione di Viaggi del Benessere.com per una nuova puntata di Pillole di Benessere con Monica Celegato Pillole di Benessere, Pillole di Benessere Buongiorno e bentrovati da parte di Monica Celegato, nuovo appuntamento con Pillole di Benessere e oggi ho il gran piacere di ospitare il dottore Alessandro Biancardi che è uno dei fondatori di Alchimia Natura che ha mantenuto la sua promessa per parlarci degli oli essenziali. Buongiorno dottor Biancardi Buongiorno a voi Grazie intanto di essere tornato E poi voglio dire, spero che avremo anche il piacere di poter parlare presto con la dottoressa Setti che è l'altra fondatrice insieme a lei di Alchimia Natura, giusto? Certamente Perfetto Allora dottor Biancardi, noi adesso ovviamente siamo qui come i bambini davanti ai negozi di caramelle per cercare di cominciare a conoscere questi oli essenziali Da dove partiamo dottor Biancardi? Sicuramente io partirei da una delle piante che sono più utilizzate, sono sempre state utilizzate da sempre nell'aromaterapia e cioè la lavanda, la lavanda vera in questo caso L'altra volta avevamo accennato che ci sono molte specie di lavanda La lavanda vera o lavanda angustifolia officinalis è la più utilizzata anche per quanto riguarda famosa anche per la Provenza, per i profumi ed è una delle piante più utilizzate nell'aromaterapia Ecco, quindi voi di Alchimia Natura, per esempio, per fare l'olio essenziale di lavanda usate questa? Esatto, questa è la varietà più pregiata, ci sono anche altri tipi di lavanda, ibride, diciamo così che hanno degli altri effetti, però a livello diciamo aromatologico è la migliore Bene, allora con l'olio di lavanda, cioè a cosa può servire, come lo possiamo usare insomma? Sì, innanzitutto diciamo che è un rimedio popolare, quindi tutte queste conoscenze dell'aromaterapia poi vengono sempre da, diciamo, conoscenze popolari Certo E' un rimedio popolare che ha un profumo molto familiare Per esempio veniva usato un tempo come acqua cosmetica, una stringente e per esempio un suo uso comune per profumare la biancheria Assolutamente, infatti mi ricordo i sacchettini di nonna, proprio con i fiorellini E' una pianta proprio che sa di famiglia, che sa di unione Esatto L'olio essenziale di lavanda officinalis è distillato in correnti di vapore Per avere un buon olio bisogna raccogliere la lavanda officinalis tra giugno e luglio quando il suo tempo balsamico è all'apice il tempo balsamico è proprio quando, diciamo, il tempo dove la pianta esplica le sue azioni più forti diciamo, in questo caso l'olio essenziale quindi quando i fiori, si dice, non sono ancora completamente aperti quindi quando iniziano le api ad andare sopra i fiori L'olio essenziale di lavanda ha molteplici proprietà è per esempio un ricostituente tonico può essere usato nelle palpitazioni di origine nervosa in questo caso si usa l'acqua aromatica che è l'acqua che esce dalla distillazione dalla distillazione escono due prodotti l'acqua aromatica e l'olio essenziale vero e proprio l'olio essenziale si diluisce, diciamo, in piccolissime quantità nell'acqua però circa per lo 0,1% o l'1% massimo e dà quindi come sottoprodotto queste acque aromatiche o acque cobatiche sono molto utili e vengono utilizzate, sono più leggere dell'olio e vengono utilizzate in aromaterapia per esempio per fare tonici e quindi tonici alla lavanda per esempio quindi per il viso e dicevo per le palpitazioni di origine nervosa veniva usata l'acqua aromatica con una benda e si metteva sul capo o dietro la nuca può essere usata anche nelle vertigine, negli spasmi, nelle coliche in questo caso veniva bevuta o viene bevuta l'acqua aromatica Ah, quindi anche l'acqua aromatica si può bere? L'acqua aromatica si può bere perché è un prodotto più leggero dell'olio essenziale non ha controindicazioni, a seconda dell'acqua aromatica ha proprio degli effetti, in questo caso nelle coliche va molto bene la lavanda in acqua aromatica L'olio essenziale invece può essere usato in piccole quantità chiaramente perché bastano alcune gocce alcune gocce nel pediluvio per esempio miscelate in sale sono utili per esempio nella stanchezza quindi farsi un bel pediluvio alla sera aiuta molto oppure applicate esternamente quindi alcune gocce diluite in un olio vettore si possono creare anche in casa degli ottimi oli da massaggio la lavanda è molto utile nelle nevralgie per esempio oppure negli strappi e neuromatismi Ah, fantastico questa cosa che ovviamente io non sapevo e giustamente stiamo proprio pendendo dalle sue labbra anche perché indubbiamente gli oli essenziali hanno davvero tantissimi usi assolutamente sì poi quindi sì per esempio a seconda anche per ricollegarmi al diciamo al massaggio a seconda anche dell'olio vettore cioè dell'olio che usiamo come vettore per fare il massaggio possiamo dargli un input per esempio dicevo negli strappi e negli edimi se usiamo un olio di arnica che ha anche delle proprietà anti-edema assieme alla lavanda abbiamo questo effetto molto utile nelle nevralgie nell'edema, negli strappi poi la lavanda sicuramente ha un'azione analgesica quindi contro il dolore antidepressiva ma anche antisettica antimicrobica tutti gli oli essenziali sono fortemente antimicrobici quindi tendono a proprio tenere bassa la carica batterica ci sono tanti studi che lo affermano ormai l'olio essenziale di lavanda è anche un carminativo quindi una goccia in un po' di miele per esempio per uso interno in questo caso siamo tranquilli perché la lavanda è uno delle poche oli essenziali che anche per uso interno in piccole quantità non dà problemi può aiutare nel mal di stomaco nei riflessi gastroesofagei così è sicuramente un deodorante quindi la lavanda è stata usata soprattutto per questo quindi può essere usato all'interno di cosmetici con acqua e da toletta quindi come deodorante è un cicatrizzante e anche ipotensivo quindi è sicuramente utile per le persone molto attive diciamo così, iperattive beh, credo che sia una pianta davvero versatilissima la lavanda, dottor Biancardi sì, assolutamente credo che sia l'olio essenziale più usato per quanto riguarda l'aromaterapia in effetti oltre il campo dermatologico quindi si può usare per esempio sugli ascessi sull'acne ma anche nel piede d'atleta è molto efficace per quanto riguarda gli ostioni che favorisce proprio la rigenerazione cellulare ma anche nelle dermatiti oppure è molto utile questo ci deriva dalla tradizione popolare una goccia di olio essenziale di lavanda sulle punture di insetti ne annulla l'effetto anche sulle punture di api è veramente eccezionale ecco, credo che grazie a lei e grazie ovviamente anche a Alchimia Natura abbiamo veramente un quadro chiarissimo di quello che è l'olio essenziale di lavanda ma credo che sia veramente incredibile questo viaggio che grazie a lei stiamo riuscendo a fare e quindi insomma di questo la ringrazio veramente tantissimo e so che comunque tutti questi prodotti e tantissimi altri si possono vedere e trovare nel sito di Alchimia Natura che è www.alchimianatura.it quindi olio essenziale di lavanda dottor Biancardi penso che sia uno di quelli che in casa comunque bisognerebbe avere esattamente l'olio, proprio il kit da pronto soccorso è costituito da pochi oli tra cui quello di lavanda perché anche nelle lombalgie nei dolori muscolari ma anche nei problemi del sistema respiratorio quindi bronchiti infezioni della gola in questo caso si usano su famigli oppure si usano aerosol ma anche per il sistema urogenitale quindi per le cistiti la lavanda è sempre stata usata appunto per fare lavande vaginali ed è molto utile nella leucorrea quindi perdite bianche e anche nella dismenorrea ah quindi assolutamente fantastico io per esempio ho curato il mio gatto dal raffreddore con la lavanda e perché poverino era messo male e sta benissimo devo dire sì certo tra l'altro gli animali sono molto ricettivi quindi bastano piccolissime dosi per loro sì infatti infatti ma devo dire che per esempio sul mio gatto ha avuto un effetto straordinario perché sono riuscita era veramente messo male poverino e sono riuscita veramente in pochi giorni ad avere un gatto nuovo se così possiamo dire va bene dottor Biancardi io credo beh credo che abbiamo finito bene o male suppongo che magari di cose se ne possano fare tante altre sì ce ne sarebbero tante chiaramente certo però insomma cerchiamo di di dare quelle più abbiamo sintetizzato esattamente quelle più utili e comuni poi insomma sicuramente ne saprete di più anche se avete voglia di andare a vedere il sito che vi ricordo ancora è www.alchimianatura.it bene dottor Biancardi io la ringrazio veramente di cuore per il suo contributo perché insomma credo che sia bello e soprattutto utilissimo cercare di far conoscere gli oli essenziali che secondo me sono una cosa davvero meravigliosa la aspettiamo presto dunque va benissimo grazie mille grazie a voi grazie a lei e buona giornata buona giornata Pillole di benessere vi dà appuntamento alla prossima puntata se volete riascoltare i nostri servizi andate sul sito viagidelbenessere.com